Ciao ragazze, questo è il video dell'estrazione del vincitore o vincitrice del giveaway dell'Avon avete risposto in tanti e sono contenta di questo ovviamente c'è chi ha risposto in maniera perfetta e c'è chi ha risposto in maniera errata o anche parziale io per correttezza nei confronti di chi ha risposto esattamente terrò in considerazione per l'estrazione solamente chi ha risposto in maniera perfetta e non sono stati pochi, sono stati abbastanza mi dispiace per chi ha risposto in maniera errata ma io ho dato tantissime indicazioni per quanto riguarda le risposte infatti una costante in assoluto è stato il nome della mia miglior amica che avete praticamente azzeccato tutti quanti sia su... perché comunque è abbastanza facile perché chi mi segue su facebook trova sempre dei link dove viene taggata la mia amica da parte mia quindi era abbastanza facile la domanda invece sui miei colori preferiti ha dato un po' di problemi nel senso che io l'ho detto apposta il mio colore preferito o colori preferiti perché? perché in realtà i miei colori preferiti sono due sono il rosa e il verde e io non posso andare a premiare anche chi mi ha risposto solamente rosa o chi mi ha risposto solamente verde non lo posso fare, mi dispiace per questo sono sicura che molti si arrabbieranno diranno eh l'hai fatto apposta ma non è questione di farlo apposta o dispetti o robe del genere è solamente una questione di correttezza per chi invece ha risposto in maniera giusta e perfetta alle mie domande quindi... cioè... tutto qua nel senso non ve la prendete a male insomma ragazzi è un giveaway dove si vince un ombretto non si vince un forziere da miliardi e miliardi di euro ricordiamoci sempre che siamo su youtube non è la fine del mondo se una cosa non piace o se un video non vi piace se non vincete un concorso voglio dire ragazzi io non ho mai vinto un concorso e ne ho partecipati di concorsi ma non ne ho mai vinto uno cioè sarò... cioè io i concorsi ci partecipo perché mi diverte fare determinati concorsi piuttosto che altri però cioè non per questo se non vinco faccio eh tu STRO non mi hai fatto vincere hai fatto vincere la... cioè ragazzi un po' di sano cervello per favore su queste cose soprattutto c'è di peggio nella vita allora adesso torniamo all'estrazione del giveaway allora vi leggo i nomi di chi parteciperà all'estrazione allora chicca testarda 1 2 3 farfallina kids easy the soul kia 87 beam malvieven spero che si pronunci così 86 pepi stellinello kitty mariluce 88 apignaz modette forever quaglietti roberto cri 484 occhi di gatto 86 calg make up the best techilia 18 68 0 1 2 3 ali 32 15 ilaria iridel juliette 111 fedina 80 scusami fedina 87 deb 26 09 reginessa 88 figlia fulifi alessia imp sharon desi jonas gan aspetta questo è difficile jonas g sanoi ce l'ho fatta sabri pand jade cannibal allora questi sono i nomi di chi verrà estratto di chi parteciperà all'estrazione diciamo io devo fare un complimentissimi a queste persone easy the soul malvieden modette forever alessia imp e sabri panda perché sono state quelle che su 5 commenti che hanno lasciato le hanno azzeccati tutti e 5 e siete stati bravissime cioè non lo so avete spulciato veramente alla grande o vuol dire che mi seguite insomma mi avete capito come sono e sono contenta di questa cosa mi ha entusiasmato particolarmente gli altri invece c'è chi partecipa diciamo c'è chi tra 5 commenti ne ha azzeccati 3 chi ne ha azzeccati 2 chi ne ha azzeccato 1 e quindi ho dovuto praticamente prendere solamente un tot di commenti cioè ad esempio 86 pepi io ho tenuto conto solamente del primo e del secondo commento perché gli altri avevano risposte sbagliate quindi ho dovuto fare una pesca e una ricognizione veramente esagerata allora adesso andiamo all'estrazione io ho fatto tutti i fogliettini vedete stanno tutti qui dentro belli carini con i vostri nomi e con e ovviamente chi ha azzeccato 5 commenti ho dovuto scrivere logicamente 5 volte il nome perché giustamente 5 commenti 5 volte allora adesso coperchio scelteriamo mi sembra di shakerare l'insalata shakeriamo apro non guardo l'ho preso eccolo vediamo modette forever lo leggete si modette forever complimenti ti sei aggiudicata l'ombretto dell'avon poi tu sei una di quelle che praticamente ha risposto a 5 commenti precisi quindi insomma dovresti ritenerti soddisfatta di questa cosa e sono contenta anche io perché avrei veramente voluto premiare una di queste ragazze una di voi che aveva risposto bene a tutti i commenti quindi veramente sono contenta non lo so appena vedi il video lasciami il tuo indirizzo attraverso un messaggio di posta privata oppure anche su facebook insomma comunque in maniera privata tanto la reperibilità di me è ovunque nel senso che o mi mandate mail sulla mia posta o sulla posta di youtube o sulla posta di facebook comunque mi trovate sempre quello è essenziale e niente ragazze io mi dispiace per gli altri ma cioè il caso ho voluto che vincesse lei e niente vi saluto vi mando un bacio e complimenti alla vincitrice